7 e 10 scusate il ritardo in questo caso si dice buongiorno e benvenuti a good morning Milano venerdì 15 dicembre buongiorno Enrico ciao ciao Enrico come stai? buongiorno Paolo Enrico Masieri esiste? no la tua famiglia dico esiste no no quello che si deve parlare di fianco a me appunto è Lorenzo Masieri non Enrico buongiorno a tutti però a lei che ti starebbe male il nome Enrico ma è bene non hai un Enrico Masieri in casa? assolutamente no va bene non è comunque tu hai un Enrico Ranfi in casa no proprio un Mario Ranfi ce l'avevamo cosa vuol dire allora ti dico un altro nome c'ho un Ottavio se vuoi ti piace? sì sì un Gilberto ci piace molto romano sì 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 anche Fabio arriva da lì e arriva quindi però non credo non credo fosse ma magari che qualcuno nella mia famiglia aveva quella roba quante volte pensa all'impero romano già in tempi non sospetti ma che ne sai magari comunque allora come state? cosa state facendo? dove state andando? chi siete? un fiorino? no un Whatsapp basterebbe un Whatsapp al 33178-53555 all'inizio delle nostre due ore assieme la segna stampa informazione e ospiti oggi avremo un Ambrugino d'Oro, Ilaria Lamera ma prima i Van Allen è vero è vero è vero è vero è vero è vero a fra poco Van Allen Jump Van Allen mitico centravanti del Milan no ancora Van Basten ah non era Van Allen ah ok scusa Van Allen uno dei più grandi guitarristi della scena rock c'è un film famoso Van Helsing qua non ti riesco a seguire perché non lo so ah beh giusto non ti può succedere ricordiamo sempre questa cosa a chi ci ascolta da casa tra parentesi apro 18 parentesi allora prima cosa Lorenzo Maseri non guarda film dove non può succedere di quello che succede nel film concetto è quello cioè ci sono di fantasia deve essere reale deve essere reale cioè sì no deve essere possibilmente cose che possono accadere a Lorenzo Maseri seconda cosa se vi siete perse queste perle da ieri su Youtube ci sono i nostri shorts della nostra trasmissione abbiamo caricato tutti i shorts dell'ultimo mese così che proprio appalate mi ha buttato su un po' di roba perché nel giorno in cui è uscito Threads Threads che si chiama non so nel nuovo Instagram il figlio di Instagram è Twitter non so non mi interessa qualcuno l'ha definita la sottomarca di Twitter carina è stata in realtà secondo me va bene molto interessante però nel giorno di uscita di Threads noi lo rendiamo su Youtube scusate noi siamo contocorrente su papà Youtube sì noi siamo contocorrente su papà Youtube ieri ho letto un commento su questo Threads Threads quello che è dicendo questo un commento era proprio plateale questo dura come clubhouse e ho paura che non sarà così invece vedremo il fatto che c'è il fatto che se ti scrivi puoi scrivere fai la stessa praticamente l'opzione clona Instagram e ti trovi tutto di lì l'unica cosa che per adesso ho spippolato pochissimo la cosa carina sono che se da me puoi mettere degli stati audio ma c'è la scrittura di quello che tu dici quindi la AI ti scrive quello che dici a parte aver scritto Crystal con la C però poi puoi modificarlo però insomma si può fare perché ricordate Crystal Radio si scrive con la K e la doppia L c'è una famosa pubblicità che dice si scrive con la doppia K è una roba di vernici e nulla Giorgio Meloni l'ha già fatto io l'ho scoperto da quel posto vedi penso a te penso a te 33178535555 buongiorno Fabio Lorenzo un saluto agli amici del mattino tra dieci giorni è Natale ci scrive Alberto beh preciso fattuale preciso fattuale come al suo solito tac dieci giorni Natale oh non gli scappa niente lui era il malacco vero non gli scappa niente io ho letto 15 dicembre non so quante volte non ci ho minimamente pensato che manca dieci giorni Natale invece meno male per fortuna che Alberto c'è per me è un po' meglio se se come si dice per me è Natale il 24 so che c'è questa c'è questa tipo Pandoro Panettone no 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 Natale il 25 punto non è che per me per me il Natale è il 24 sera per me è il 18 di marzo no non è una cosa a casa quindi io calcolo sempre il 24 ma perché sono abituato così io però c'è tanta gente in particolare al sud in cui il 24 è molto più sentito del 25 anche Santa Lucia l'abbiamo appena passata esatto l'ho festeggiato quindi fammi capire tu il 25 aprile quando lo festeggi giusto per capire cioè nel senso ah ok no no non devo capire questa cosa qui io il 25 non faccio niente lo dico sempre il 25 è Natale il 25 è Natale il 25 è Natale il 25 è Natale non faccio niente niente zero niente zero baci neanche il bambinello no baci la sera prima ricordiamo che la nonna di Masieri lo insegue per tutto il condominio dicendo di baci al bambinello prima di averlo mettere nella mangiatoia del presepio c'è una cosa interessante sulla manacco ne parliamo dopo ne parliamo adesso fai come fanno quelli giovani fai l'hype lancia il sasso e tira la mano il compleanno di uno che può far parlare di sé ah hai capito allora adesso non posso dire di chi sarà il compleanno ve lo diciamo dopo Jane con ma che ma che ma che bellezza no non dice ma che bellezza però mi suonava bene Roy Patch ma che ba ma che ba Jane questa è una canzone che ogni volta che la sento pensi alla storia di questa canzone perché non è nuova non è per nulla nuova questa canzone è del 2017 penso caricata in un FIFA recente e ha avuto di nuovo vita nuova cioè proprio grazie a TikTok grazie a FIFA insomma ha avuto questa rinascita beh Jane sarà contenta sì ah è quella che la canta sì no Jane è quella che la canta ma che ba è il titolo della canzone e stavo pensando che sarà contenta cioè l'aveva già messo il libretto di Astini della CIA l'aveva già messo via invece a un certo punto toc 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 ma in realtà noi in realtà non conosciamo nient'altro almeno io non conosco nient'altro di Jane è possibile che faccia no ce n'era un'altra molto carina che adesso non ricordo però non ci stava no no è anche brava è un bel disco quello di di Macheba io non conosco niente a parte questa canzone grazie al trattenimento videoludico ah ok tu sei quello di FIFA non con il TikTok no il mio TikTok è meglio non guardarlo e Twitz? ce l'hai Twitz? 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 Trezzo? no Trezzo Dada? Trezzo Dada è bello cosa c'è? famoso il Vox no il Vox la birreria comunque no è un locale un locale il live club di Trezzo dove vanno tutte le band metal che non riescono a riempire l'Alcatraz che non mi ha chiuso adesso comunque nel senso comunque si è spostato non è più nella sedia tutte le band di rock hard rock metal che non riescono a riempire l'Alcatraz vanno al live club di Trezzo infatti la qualità spesso e venti sta al live di Trezzo non è vero cavolo come dimenticare un viaggio quando devi la mia epoca quando prendevi il gamba di legno e andavi al vapore ma a proposito della tua epoca e di musica oggi di chi è il compleanno un buon compleanno a Sara ve lo dico la dottoressa e poi oggi è il compleanno di Red Ronny l'abbiamo parlato recentemente ci sarebbe un mondo a dire chissà se gli arrivano gli auguri di Jimi Hendrix io vi dico solamente che ho guardato 25-30 minuti di video qualche giorno fa perché ha raccontato la storia di quando per due anni è stato in possesso della chitarra bianca che Jimi Hendrix suonò a Woodstock perché l'ha acquistata all'asta per un sacco di milioni di lire ci sono dei video d'epoca girati da lui mentre davanti alla televisione al telefono con quello che rilancia poi chiama Gianni Morandi e fa Gianni Gianni l'ho presa e Morandi stai scherzando stai scherzando è un documento bellissimo è andato a vedere sul suo canale indipendentemente da tutto il resto Red Ronny chitarra Hendrix è uno degli ultimi video veramente interessante è un pazzo è un pazzo ma no non si può dire così un pazzo un folle un genio folle anche perché gli fecero una garanzia da parte della banca senza cifra quindi lui è andato guardatelo la fine della storia l'ha rivenduta dopo due anni senza guadagnarci senza guadagnarci perché lui dice di essere stato sostanzialmente lui non l'ha comprata lui è stato custode di questa chitarra ok chiarissimo chiarissimo va bene va bene Red tanti auguri tanti auguri a Red Ronny animanti con la musica italiana che secondo me potrebbe apprezzare uno come Calcutta secondo me Red Ronny lo apprezza se sì non lo so questo glielo chiediamo buon compleanno Red Ronny io sono Milano io sono Milano io sono Milano anche io sono Milano anche io sono Milano io sono Milano Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano Io sono Milano Io sono Milano Anche io sono Milano Io non lo so cosa sappiamo di noi Che colpa ne ho? Non so che ho qualche colpa Che è la colpa di aver invitato Sempre qui al venerdì Eriby per farci la sua rubrichetta Buongiornissimo Caffè? Vabbè Non sta ridi ma si è ridi Perché a me fanno ridere Comunque non c'è tanto da ridere Io ne ricevo almeno uno Se non due a settimana di queste cose Sempre la stessa persona Cioè mia madre Però fa niente Mia madre ti manda anche Buon martedì di giovedì Va bene Una persona che sta sul pezzo Sì sì esatto Buongiorno Buongiorno Eriby allora che ci racconti oggi Ricordiamo il titolo della tua rubrica Gli eventi della settimana A cui io Eriby Non andrei Ovviamente Anche questa settimana Sono tutti eventi Sul Natale Io penso che anche La prossima settimana Ci saranno eventi Sul Natale Però raga Poi basta Cioè Poi No Magari La prima settimana di gennaio Poi basta Eh perché poi ci saranno Gli eventi della Befana I Maggi Ma settimana di gennaio Non ci sono gli eventi sul Natale Ma sì Tu hai dei problemi con il Natale Te lo dico Il Natale è il 25 Non è il 24 Guardate le locandine Delle iniziative Del primo gennaio Ci sono sempre fiocchi Ma anche questi qua Vanno avanti sempre Fino al 7 di dicembre Va bene 7 di gennaio comunque 7 di gennaio Scusate Senti che dice cosa a caso Comunque volevo dire questa cosa Non vi sembra che quest'anno Siano tantissimi questi eventi? Sì Più del solito Secondo me si vuole Per evitare di parlare d'altro Sì Noi ne conosciamo tantissimi per questo Arriviamo anche da anni In cui c'era poca roba Danni duri Negli ultimi anni C'era poca roba Quest'anno ho fatto il pienone Va bene Ma iniziamo Allora Primo evento tra tutti Cascina Cuccagna Che fa il mercatino In Cascina Cuccagna Appena vinto l'Ambrogino d'oro Che se frega Ma come? Quindi aspettando il Natale Dal 17.12 Quindi la domenica Inizia a fare questo mercatino Ok Ah beh Poi Per la tua passione Sensation on Ice In stazione centrale Torna la mitica Così definita Pista di pattinaggio Da Sant'Ambrogio Al 7 di gennaio appunto Così mitica Che mi sa che C'era solamente l'anno scorso Tra l'altro Ho un piccolo aneddoto Uno dei nostri amici L'anno scorso Ha portato le figlie A pattinare Proprio su questa Sì E ha preso la multa Perché Aveva messo la macchina Parcheggiata in piazza In piazza Duca d'Aosta Vale E gli ha dato la punta Mi fa ridere Mi fa ridere Vabbè A voi Non faceva ridere A me Ah Non solo Milano Chiaramente Si organizza Per questa roba Grande spolvero Anche Buccinasco Christmas Village Al Parco Spinazzurra Sabato 16 Domenica 17 Io Un salto Questo qua Ci vorrei farlo Sinceramente Vedi 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 Ma soltanto Per vedere Quali bancarelle strane Potrebbero avere A Buccinasco Ma perché Devono avere Ci dissociamo Da questa cosa Un saluto Al sindaco Di Buccinasco Esatto Poi Ovviamente C'è quello di Frida Frida Market Zona isola 16 17 Dicendo Al Frida Esatto E E poi Ah no Ecco A Mare Mare culturale urbano Quello Quello Qui vicino a Dmianovara Diciamo Domenica Alle 15 30 C'è il piccolo Concerto di Natale Eh Bello No Non andrà neanche a questo Mi dispiace Va beh Basta Sono finiti i miei eventi Scusate la monotonia Ma no Non è colpa tua Sicuramente Tra l'altro Io ho più Più A ganci No Perché guardo gli eventi Degli amici su Facebook Che solitamente Sono meravigliosi E poi guardo in giro Che cosa può succedere Ma purtroppo Sono monotematici Solo Christmas In questo momento E tra l'altro E ribiti Sottolineo Che io sono andato Alla pista di patinaggio Di Ad Affori Di Villalitta Era Non sono entrato Sulla pista Perché era impattinabile Perché? Perché sono fatte Un po' così Ma no L'aveva Nel momento Anche tutti gli aghi di Pino Quelle cose nè No no Perché come si faceva La Gorao Come si faceva La Sago Una certa Dobbiamo dire Senti Uscitevi a tutti E passa il tipo Passa la Zamboni Esatto Invece c'era la neve Praticamente Non c'era ghiaccio Non si poteva Si può fare il provazzo di neve Poi alla fine dopo Forse l'avevo detto Nelle scorse settimane In piazza San Babila Ce n'è una abbastanza grande Sì Oltretutto in piazza San Babila Credo che tutti i giorni Alle 18 18.30 Faccia uno show Ci sono le pedane Anche per Starsi seduti A vedere lo show Ma non vi piacerebbe Se ci fosse Un qualche Come dire Qualche evento Che non c'entrasse niente Con Natale Tipo Parliamo di Pasqua Così Adesso Non è uno spoiler Però scusa Non puoi raccontare A Natale Così da Pasqua Cioè Tipo La festa del Pasqualone No beh Però posso dire Degli eventi Non so Su altre cose Su Noi e i nostri amici cani Eh Cani Sarebbe Noi e i nostri amici cani Version Christmas edition Christmas edition È vero Perché effettivamente Qualsiasi cosa tu fai In questo periodo dell'anno Diventa Christmas edition Comunque volevo Salutare anche tutti gli amici Che ci stanno ascoltando Che stasera Nella prossima settimana Faranno le cene aziendali Ah Mi sa che qui c'è del Del vissuto Credo Anche lei Sì L'ha appena fatto Lontanissima Ieri sera Sì Come è andata A Legnano Ci abbiamo impiegato Un'ora e mezza Da Buccinasco a Legnano Doveva ammazzarmi Però fa niente è andata Io sono Grinch E sono stata anche brava Ad andare Ecco già quello Un premio al Grinch Io aggiungo una cosa Smetteteli di farle In Bovisa per favore Soprattutto in un particolare Ristorante di cui non farò il nome Non saranno contenti Cioè quelli sono contenti Di farlo lì Ho capito Sono contenti Ok Allora parcheggiassero le macchine Verso lo Spirit Che anche Mi sapeva che era lo Spirit Peccato non averti segnalato Un mercatino di Natale Di qualche settimana fa Lo Spirit Che era strapieno C'è un'altra mia amica Non riusciva a entrare Ma dove c'andava anche lei? Io? Impossibile Infatti Segnalare da aggiungere Agli eventi Cioè l'unico che farei Ma per affezione Nel senso che passo Molto più Per affetto credo si dica No Anche affezione Ma bene Passo le ore Della mia vita a Buccinasco E quello di Buccinasco Ma proprio Perché vorrei andare a vedere Quali le cornie Diverse ci sono a Bucci Bucci Saranno Vabbè buone Pastarelle Cosa così Pastarelle a Buccinasco Beh sì 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 Come si chiama Quelli di Pugliesi Non so Le bombette Sai che in realtà Buccinasco non è molto pieno Di Pugliesi Ma è proprio calabrese Ci sarà l'anduia Ti daranno L'anduia E cozzup E cozzup Cosa è buona E crustole E crustole Cioè se mangieremo E quindi Io ce lo faccio un giro A sto punto Alla festa di Natale di Buccinasco Che c'è una magna buona A meuzza A meuzza A meuzza A me magari Siciliana Siciliana Sta un po' lì Però su Natale Magari ti rimane un po' sullo stomaco Va bene Eribi grazie mille Grazie a voi Ci risentiamo la prossima settimana E Gianluca Grignani Ci porta in Svizzera La fermata dopo Lugano È Lugano Paradiso E quindi Appontamente parlava di quello No? Ah non parlava di Non credo Ah pensavo parlessi di Lugano Paradiso No 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 Un saluto agli amici svizzeri Salute Anche le guardie svizzere No ma a Lugano parla di italiano Sto scherzando Sto scherzando Parla di italiano Parla uno svizzera Comunque Ricordiamo Un saluto agli amici svizzeri Come Aldo Giovanni Giacomo Durante Potevo rimanere offeso Durante esatto Durante potevo rimanere offeso Comunque 15 dicembre Venerdì Venerdì Dello sciopero Dello sciopero a Milano Perché È stato confermato E lo ricordiamo Che alle 9 di mattina Inizierà E durerà Fino alle 13 Lo sciopero Che coinvolgerà ATM Ricordiamo Che si tratta Di uno sciopero Che è stato Precedentemente Spostato Ulteriormente Ridotto Pochi giorni prima Qualche giorno fa E quindi sostanzialmente Oggi dalle 9 alle 13 Attenzione Perché potrebbero Esserci disagi Sulle linee 9 e 13 Vabbè Poca roba Se vi organizzate Riuscite a non Ficcarvi dentro Proprio in quel momento Sempre Per quanto riguarda Il TPL Che io quando sento TPL Mi viene l'orticaria Come il GSM Con il telefonino Cioè Sembra una roba così Il TPL Il TPL È sostanzialmente L'acronimo Di trasporto pubblico Locale Cosa è successo Che ieri Qui esiste anche il TPN Trasporto pubblico nazionale Non credo Comunque Ieri Il sindaco Beppe Sala A margine della presentazione Sullo stato Dell'avanzamento Dei lavori Del policlinico Ha detto Che aprirà Entro fine Estate 2024 La fermata Policlinico Della M4 Lui l'apre Lui l'apre Con le chiavi Il nastro lo taglierà lui Dai dentro Dai che dobbiamo andare Dai che parte il treno Il nastro sicuramente Lo taglierà lui Quindi Intro Quando è che ha detto Intro Fine Estate 2024 Apri Fanta Policlinico Che è dopo San Babi Cosa c'è la prima Dopo San Babi C'è uno di mezzo Qual è Quella che mancava Sull'M4 Tre torri Mi è rimasto chiuso Per un po' Si passava Si passava dritti Così In mezzo al cantiere Mi ricordo che era In trasparenza Sulla linea Sì 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 Vabbè Ma metta Cosa a capo È interessante Perché così La fai già andare Ad esercizio Come si dice In questi casi C'è il problema Cosa che Si è trovato Sulla 5 Del fatto che Poi a un certo punto Avevi mezza linea Che era già Mezza usurata E l'altra linea Che praticamente Era nuova Non era facile Fare le manutenzioni Ad esempio Quindi Vabbè Però È una fermata Strategica Per la città Quindi Importante Che non vediamo Loro appunto Che si apra Io dico In realtà Non vedo Loro Che aprano Tutta Stemme 4 Fino alla fine Così Non ne parliamo Più Ma soprattutto Magari Aggiungendoci Anche una bella Fermata Buccinasco Oggi La puntata Di Buccinasco Oggi Siamo solidali Con il Popolo Buccinasco Buccinesi Buccinesi Sì Buccinesi Non lo so Popolo di Buccinasco Siamo con voi Ok Poi Eh no Poi aspettiamo adesso Un po' di Un po' di Suspansa ancora Suspansa ancora Mi hanno dato notizie oggi Sembra che ci siano un po' di notizie No Adesso le sto bruciando tutte Poi per 5 minuti sono a posto Ah ok Perfetto Ce le maniamo tutte adesso Andiamo con un po' di musica allora Peggy Goo It Goes Like Na 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 Peggy Goo come Peggy Guggenheim Perché arriva tutto da lì Arrivano i livelli Peggy Guggenheim Peggy Goo It Goes Like Na 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 Penso che in realtà il titolo di questa canzone è Na 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 Perché It Goes Like è tra parentesi Però No ma nel senso che Una canzone che mi na 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 Che canzone è È difficile infatti come Beh sarebbe la risposta a tutti quelli che ti dicono Bravo Non è quella canzone che fa Na 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 Non mi dico la canzone che fa Na 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 Eccola Si chiama così proprio Si chiama Quindi tutte le altre canzoni nel mondo che faranno Na 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 Verranno cancellate da Peggy Goo E brava Peggy Goo Intanto Se ne siamo già bruciate tutte le notizie Abbiamo qualcosa No qualcosina c'è Vai Su Però ci colleghiamo un po' alla vicenda natale Eccetera Siamo al 15 dicembre Impossibile non farlo Domani A Milano come sapete Il sabato e la domenica si corre E domani Torna La Babbo Running 16 dicembre 2023 Partenza ore 15 da Piazza Sempione Babbi Natali di Corsa Per sostenere la ricerca scientifica contro i tumori pediatrici Questa è la tredicesima edizione della Babbo Running Appunto 16 dicembre Partenza alle ore 15 da Piazza Sempione Precisamente dall'Arco della Pace Chiaramente inutile dirlo È una camminata Una camminata un po' veloce Con sostanzialmente Tutti i vestiti da Babbo Natale Come ha fatto Iribi a perdersi questa roba? Ci aveva parlato di quella virtual Che ci doveva essere Mi sa che C'è stata Tipo due settimane fa In realtà è un evento Virtual Edition Dall'8 al 24 Esatto Come funziona la Virtual Edition? Ok Allora Ti spiego La Virtual Edition è Corri quando vuoi Vestito da Babbo Natale Come un pirla da solo E ti ha Sull'applicazione Molto potenziale L'applicazione è qualcosa Ti registra il tragitto Qualcosa del genere Invece Questa qui Se invece Non ti piace fare il pirla Ma in compagnia Vai a fare il pirla Un muro per accogliere vestiti usati A sostegno di persone Che si trovano in condizioni svantaggiate Ricordiamo sempre Perché in buone condizioni Non è sempre la questione Per non buttarli Non so che cassonette A buttarlo Non metto lì E quindi sostanzialmente Questa è tra tutte le iniziative Più colorate Più di facciata Di cui parliamo sotto Natale Ce ne sono anche tante C'è scritto anche organizzata No, non c'è scritto Dal tempio Vabbè Il muro della solidarietà È bello Milano ce ne sono un paio Quindi finalmente A sostenere l'iniziativa I volontari Dei City Angels Ah ok Bravi City Angels Bravi Beh Amborgini d'oro Che l'uomo Ne fa Quindi Fanno cose Fanno cose per la città Allora Adesso noi ci fermiamo un attimino Per la pausa Poi ritorniamo Ricordiamo che poi All'8 e mezza Avremo un amborgino d'oro In collegamento con noi Esattamente Ilaria Lamera Tende Carro affitti Universitari Quel tema lì Ok Adesso uniti i puntini Delle cose che vi ho detto E verrà fuori L'intervista che appunto All'8 e mezza Avremo con Ilaria Lamera Andiamo avanti con la musica Vai vai Fabio Anche perché vedo che ci sono I Foo Fighters I Foo Fighters Con Under You Qui alle 7.55 Su Crystal Radio Good morning Milano Michael Jackson Billy Jean Billy Jean Michael Jackson È palindromo Michael Jackson Billy Jean Billy Jean Michael Jackson È palindromo a se stesso A se stesso Sì 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 8 e 11 minuti Ben ritornati nella seconda ora di trasmissione Questo è Good morning Milano State ascoltando Crystal Radio E potete interagire con noi al 331-78-535-55 Whatsapp Cioè si sono mandati un sms Perché non lo leggo No Eh ve lo dico Non chiamate Eh non chiamate neanche Perché non ce l'ho qua il cellulare Quindi se potete andare di là A rispondere No Whatsapp sì invece Whatsapp quello che volete Si deve fare Quello che volete Quello volete Siete già iscritti a Trezzo 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 Finché non arriva un inglese qua Che mi dice come si dice Io continuerò a A chiamarlo in maniera assurda Comunque Trezzo Seconda ora di trasmissione Con la io non ho capito Secondo me è Trezzo Ma tu non ne sai niente Ma tu non ne sai niente Non so nemmeno come si scrive Con la io con la E Con la E Con la E mi dice Trezzo Trezzo Vabbè A me non me ne frega niente di Trezzo Sai che sono emozionato in questo momento Per coperto che la nostra Producer Irene Sa L'alfabeto Che non è la lingua dei segni Cioè C'è una roba che fai La A La B La C La D Sì l'alfabeto muto viene chiamato Penso una roba del genere Eh sì E ha fatto la E come Con i Pulp Fiction Per intenderci Come un maturo Come un maturo in Pulp Fiction Cioè con le due dita Sull'occhio Però è una cosa che non pensavo Che le nuove generazioni conoscessero Senso che pensavo fosse diverso Quando io ero piccolo a scuola Io non lo so Però non si usava tanto Masieri Qualcosa che tu sai Cioè dimmi una cosa che tu sai Dai Argomento a caso No Argomento a piacere A piacere E ti posso parlare La Cheesecake Mi porti a Cheesecake anche tu No Ti posso parlare di un po' di robe Politica Proprio istituzionale Sei proprio palloso Sei palloso No Beh ti posso parlare anche di musica Di chitarra No Di chitarra Di che a voi ti piace Certo Allora dopo ti faccio un regalo Di chitarra Ah ok Ah ok No 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 Proprio fisico No no Proprio fisico Quando facciamo la redazione Comunque Riprendiamo con la Rassegna Stampa Prima di collegarci con L'Ambrogino d'oro 2023 Ilaria Lamera Cosa succede? Che oggi alle ore 17 In via Rizzoli 13A Ci sarà un presidio Di Forza Italia Cioè Delle sezioni comunali Di Forza Italia Di Fratelli d'Italia De La Lega E di noi moderati Ah festa di Natale? Per cosa? No Ah no Presidio contro l'assegnazione Del capannone di via Rizzoli Da parte del comune di Milano Al centro sociale L'Ambretta Eh Mariangela Paladino Unica rappresentante Di noi moderati In consiglio comunale Dice Saremo in via Rizzoli Per schierarci Con tutti i cittadini onesti Per ribadire L'importanza Della legalità E difendere Il patrimonio Del comune di Milano Che è Oggi come ieri Il patrimonio Di tutti i milanesi Non è concepibile Che si possa installare Qualcuno Senza partecipare E vincere una gara E questo vale anche Per il centro sociale L'Ambretta A quale sono stati Assegnati Direttamente I locali comunali Di via Rizzoli 13 Vabbè Se seguiremo La questione Ho capito Quale è la questione Credo ci sia Un discorso Anche di sicurezza pubblica Per cui è stato fatto Per quello L'assegnazione Però è vero Che a volte Non si capiscono bene Come questi luoghi Vengono assegnati E ti dicono Prima c'è il bando Poi no Facciamo l'assegnazione diretta E tutto Un po' più di trasparenza Non sarebbe male O soprattutto Ripeto Spiegare le cose Cioè In comune Eviti di dire Spieghi prima Così si evita Che la gente Se incazza Assoluto Poi Ricordare Tu non ce l'hai con l'acqua Ieri o l'altro ieri Non ho ben capito Non sai nulla E non capisci nulla Cioè Ma come fossi Ma io No perché Quando ci sono i post Ma fai parlare Questa è Sostanzialmente Capitan Ventosa Volto di Striscia la notizia Ok No l'ho detto Con la operata Ah ok Volto di Striscia la notizia E' andato Tra i pendolari Giornalieri Della linea Milano Mortara Che ricordiamo Essere Per varie statistiche La linea peggiore D'Italia Se non sbaglio Il continente Una roba del genere Denunciato Da tantissimi Soprattutto Nel momento In cui c'è stato Il rinnovo Di Trenord L'abbiamo parlato Con Simone Negri Consigliere Di regione Lombardia E niente Sostanzialmente Capitan Ventosa Con a seguito Alle telecamere E' venuto A testimoniare Il travaglio quotidiano Dei viaggiatori Messe a dura prova Anche negli ultimi giorni Da ritardi E cancellazioni Devo dire che L'ho già Cosa da questa cosa Però Tempo fa Ho fatto un viaggio Su Trenord E mi sono scaricato L'app Per vedere gli orari Quando mai Notifiche Tutti i giorni E tutti i giorni Almeno Due linee Tre Hanno cambi Di destinazione O anche di partenza Io non ho capito Cioè tu prendi un treno E ti cambia la destinazione Ma come c'è Io voglio andare là Però vabbè Orari Ritardi Non manco ti arrivano Le notifiche Di ritardi Perché sono così tanti Che non ti arrivano Ma a me è scoperto Questa cosa Di cambi di partenza O destinazione Cioè il treno Che va da Adesso dico una stupidata Dalla Veno A Milano Parte da Un'altra parte Ma come Dalla Veno E quindi fa una linea diversa Vabbè Avranno altri dieci anni Per migliorare Mi piace La tua positività La tua positività Mi piace No perché Io sostanzialmente Prendendo il treno Solamente per Brevissimi tratti E nel centro Tu fai Bovisa Cadorna Esatto O Bovisa Cadorna O Cadorna Bovisa O Cadorna Lancetti Ah però Quella è lunga A piedi ci metti meno Non te lo dico No Dipende No per esempio Per andare in fiera Sono andato con il treno Mi sono trovato da Dio Comodissimo Ci sono alcune cose Che è difficile Che subiscano disagi Quindi io ho quella Percezione lì Capisco perfettamente Che se non tutte le mattine Deve venire Da Dalle montagne Da Como Giù di lì Ma già Quella già fuori dalla prima cerchia Secondo me Ringband Thieves Overcome Venerdì 15 dicembre 8 e 20 Poco prima della nostra pausa Della mezz'ora Con ancora qualche notizia Ce l'abbiamo Masieri? Con ancora qualche notizia Perché la rete Mai più lager Noi CPR Scrive L'attività per la chiusura Del CPR Non si ferma Conferenza stampa Oggi Venerdì 15 dicembre Ore 9 e 45 Davanti al palazzo Di giustizia Quindi un presidio Una conferenza stampa Anche alla luce Di quello che sta succedendo Nell'ultimo periodo In cui Le condizioni Del CPR Di Viacorelli Sono arrivate Alle cronache nazionali Poi ci sono stati controlli Sulla società che gestiva E sapete cosa è successo L'abbiamo parlato anche ieri Sì Una buona occasione Beh buona Insomma Battere il ferro Finché è caldo Esattamente Così che si possa Veramente fare Sempre più luce E chiarezza Sul tema del CPR A cui noi stiamo Molto Ci stiamo molto a cuore Quindi un saluto Anche alla rete Che insomma Magari ci farà sapere Poi Vi vedremo giornati Su questa conferenza stampa Che verrà fatta oggi Appunto alle 9 9.45 davanti al palazzo di giustizia Poi Appare uno striscione Dei bikers Fuori dal Blue Bikers Pub Di via Brioschi Contro il comune di Milano Per lo stop Alla circolazione Delle moto d'epoca Siamo pochi E non inquiniamo Il cuore Non si tocca Nel Mierino Appunto La messa a bando Dei veicoli Euro 0 e 1 Palazzo Marino Dice Portiamo avanti Gli impegni Presi Leggo dalla Repubblica Milano Allora Mi piace una cosa Di questo Nel senso Io sono abbastanza A favore del togliere Le robe inquinanti Dalla città Ovviamente Ma non ne fai un cavolo Ma c'è una cosa interessante Siamo pochi Quindi in realtà Quello fa capire Che Non serve a nulla Perché non è che Se tu Togli questo divieto Allora da domani Tutti Con le moto Euro 0 e 1 In giro per la città Saranno sempre Solo loro Quindi non è che Mi piace Anzi complimenti Sono dalla parte dei bug Questa volta Ah beh assolutamente Io per le moto d'epoca Sì perché sono Non sono quelle lì Che portano inquinamento Esatto Non perché In quanto moto d'epoca Ma in quanto Si tratta di una Situazione Molto molto rara Sì 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 Sicuramente Ci sono Sicuramente Difficile Che uno Utilizzi la moto d'epoca Per andare a lavoro Non mai fa La utilizza magari Per fare i suoi giretti Eccetera eccetera E quindi Chi se ne frega No 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 Sono d'accordissimo con te Dopodiché Sono la stessa persona Così almeno Non capite che fare Che dice che Area C Andrebbe Allargata A tutta la Circovalazione Secondo me Io te lo dico E dovrebbe costare 15 euro Non 7 euro e 50 E io non sono d'accordo Anche 30 euro Nel senso E Pedonalizzare Pedonalizzare Tantissime vie Secondo me Una marea Però Ieri ero in centro Non può esserci Quel traffico Alle due e mezza Alle due del pomeriggio Non può esserci traffico In cordusio Cioè non esiste Vuol dire che c'è qualcosa Che non sta funzionando Io non pigerei troppo Sull'acceleratore Inteso Ok stiamo facendo Stiamo andando In quella direzione Andiamoci Però non lasciamo Indietro gente No no Quello no Quello non sono d'accordo Anzi io credo Che non stiamo andando In quella direzione Perché a fare i divieti Solo di Non entra con l'inquinante Mentre quell'altro Se paghi entri Non c'entra nulla Se paghi entri Allora poi Chi può permettersi di entrare Paga Chi non può permettersi Non entra E l'oralisti Che lascia indietro gente Se io invece Pedonalizzo Trammizzo Autoborsizzo Alcune vie Qui ci passano solo i tram Qui ci passano solo le vie Gli autobus Qui ci passano solo i pedoni A quel punto Faccio dei servizi Per tutta la cittadinanza Scusate Non sono mai Anche urbanista Da oggi Fabio Ranfi In versione urbanista Dalle 8.24 Di venerdì 15 dicembre 8.32 minuti Venerdì 15 dicembre Mezz'ora degli ospiti Sì È il momento degli ospiti Qualche giorno fa Era l'8 di No 7 Sbagliato Sbagliato 7 di dicembre Io faccio confusione Tra 7 dicembre 6 gennaio L'8 gennaio Che non si dice mai niente Ma in realtà è quando si ricomincia A far cose Quindi facciamo un po' di confusione Su questo Era il 7 di dicembre Milano festeggiava Il suo santo patrono Il nostro Sant'Ambreuse E Al teatro dal verme Al teatro dal verme Si insegnivano I meritevoli Della benemerenza civica Tra queste C'era Ilaria Lamera Buongiorno Ilaria Buongiorno Allora Ilaria Lamera Ambrogino d'oro 2023 Così mi ho messo nel sottopancia Così almeno Vabbio Ormai ce l'hai nel curriculum L'hai messo nel curriculum Ilaria? Non ho ancora fatto il curriculum Ah ok Eh si bisogna metterlo Bisogna metterlo Ilaria Lamera Perché è stata insegnita Di questa benemerenza Perché è stata Con lei Che ha fatto partire Un movimento Il movimento delle tende in piazza Dopo è chiamato Perché Insomma A differenza di molti Che dicono Eh però Non c'è un po' più Eh però Qua tutto È tutto un magna magna E tutto di quanto di là L'hai detto Sentite Inutile lamentarsi Facciamoci vedere Com'è nata questa idea Di prendere la tenda E andare davanti al Politecnico Giusto E occupare Il piazza Leonardo da Vinci Allora in realtà È stato tutto molto casuale Io non mi ricordo Il momento preciso In cui ho avuto questa idea Sicuramente l'idea È nata dal fatto Cioè da un bisogno reale Quindi io davvero Un giorno Non ce la facevo più Di farla pendolare A quattro ore al giorno Con tutti i problemi Al trasporto pubblico In Lombardia E quindi ho pensato Eh Sarebbe fantastico Avere una tenda E poter dormire davanti All'università Visto che non si trova a casa E le case che si trovano Costano troppo E quindi poi Ovviamente questa idea Infattibile Non si può davvero Vivere in tenda Per tutta l'università Anche se abbiamo cercato Di dimostrare il contrario E quindi alla fine Ho deciso di utilizzarlo Come protesta E direi che è funzionato Eh ma La domanda Proprio Te la faccio una domanda Bu base Quando è che ti è salita La carogna Per dire basta Adesso prendo la tenda E vado lì davanti Allora mi ricordo Era febbraio Di quest'anno Ok Perché io Ho ripreso A fare la pendolare Come anno scorso Accademico Diciamo Perché mi hanno tolto Le lezioni online Di Non dico proprio Tutti i corsi Ma quasi E quindi dovevo Di nuovo andare In università Praticamente tutti i giorni E Come dico spesso Nelle interviste Io ci mettevo Quattro ore al giorno A fare avanti e indietro E tu arrivi da dove? Alzano Lombardo Provincia di Bergamo Alzano Lombardo Non è che arriva dal Nicaragua Cioè capito E questo Cioè quattro ore Io prendo un aereo E vado Credo a Madrid Cioè nel senso Tranquillamente Anche meno Infatti già capito Ma la cosa è che ci sono ragazzi Che abitano poco più In su di me Nella valle Ma davvero pochi chilometri E loro ci mettono Sei ore al giorno A fare avanti e indietro Quindi niente Io dovendo fare La pendolare Ho iniziato a cercare casa Cosa che in realtà Avevo già fatto Il primo anno di università Nel 2020 E 2019 Con risultati Con risultati pessimi Immagino Con risultati E sono iniziato a vedere Case Le case Cioè Le camere singole Per studenti Costavano troppo Tipo 850 euro Per una camera singola Addirittura Alcune che avevano Il bagno Privato In camera Diciamo Costavano più di 1000 euro Cioè un bagno E E poi Ho scoperto Anche tutto un mondo Di truffe Ci sono delle agenzie Che ti chiedono Un sacco di soldi Tipo 250 euro Per farti Vedere degli annunci Che poi non rispecchiano mai Gli annunci A cui tu eri davvero interessata Sono annunci falsi Quindi Anche tutto questo mondo Di truffa Che c'è sotto Mi faceva molto arrabbiare E questa situazione Del caro affitti Cioè Io per esempio Dico sempre Che Milano È la città Universitaria Per eccellenza Nel nord Italia Ma non Per universitari Cioè È universitaria Però non è costruita No È vero È vero E probabilmente Non sta facendo abbastanza Per adeguarsi Quindi la domanda Ilaria è d'obbligo Cos'è cambiato Dal primo giorno In cui vi siete messi giù Con la tenda È successo qualcosa È cambiato qualcosa Allora Risincera Sincera Dal piano pratico Dal piano pratico Davvero poco Però Io ci tengo Anche tutti quelli Che mi dicono E vedi Alla fine Cioè Mi criticano Mi dicono Non hai Alla fine Non hai risolto niente Sì Grazie Nel senso Un problema Che c'è da decine di anni Infatti Perché C'è già i miei fratelli Che sono molto più grandi Di me Mi dicono Che negli anni 90 2000 C'era già questo problema Non è che puoi risolverlo In sei mesi di protesta Senza avere alcuna Comunque Ilaria posso dire Poi Posso dire Infatti Cioè Ilaria Lamira Non ha risolto il problema Ma non è lei Che deve risolverlo Cioè come dire Non è lei Che deve risolverlo Cioè sono altri Mi piace che tu Vivi l'imbarazzo della scelta Su dove andare a mettere Sta tenda Però Perché potevi metterla Da quelli che gestiscono i treni Da coloro che gestiscono Agenzie immobiliari Da coloro che Che gestiscono le politiche Per le università E l'università C'è veramente C'è un imbarazzo della scelta Poi tu dicevi appunto Dal livello pratico È cambiato poco Forse però C'è un forse C'è un ma Sì Perché in realtà A livello invece Più politico Comunque Del parlarne Dell'opinione pubblica Cioè Quella è stata Una totale rivoluzione Perché io mi sono Proprio resa conto Che Prima di mettere le tende Tutti sapevano Di questo problema Ma nessuno ne parlava Nessuno osava Aprire il vaso Di Pandora E forse Insomma Il motivo Per cui mi è andato Il premio È stato Credo forse Proprio quello Cioè Avere avuto il coraggio Di aprire il vaso Di Pandora E far sì che Tutti ne parlassero E far sì che Le istituzioni Per quanto Insomma Per giochi politici O per altri motivi Non sempre Positivi Comunque Ne parlano Cercano A un certo punto A un certo punto Come funziona Ti chiama chi Per dirti Guardi Diamo l'amborgino d'oro Come funziona Dacci questo backstage E ho detto molto sincera Sì Lì avevo già avuto Un modo Di metabolizzare Ecco Poi voglio arrivare lì Però Perché io Nella tua premiazione Io ci vedo Comunque un paradosso Tu Sei lì In mezzo alla piazza A dire Oh Datevi la mossa Cioè qui Noi non sappiamo Dove andare a vivere Signor sindaco Si sveglia un attimo Anche lei Signor rettore Faccia qualcosa Politici tutti Vede qualcosa E loro dicono Brava Ilarga Tieni l'amborgino Se sei brava Tieni l'amborgino No Cioè è un po' un paradosso Oppure dici No È nel liter della protesta Non so come dire È assolutamente un paradosso Infatti Ci siamo messi d'accordo Con il movimento Delle tende Che si è creato Dalla mia protesta E Abbiamo creato Degli striscioni Comunque Una sorta di contestazione Da fare fuori dal teatro Il giorno della premiazione Cosa che appunto I miei compagni Del movimento Hanno fatto E io Appena uscita dal teatro Mi sono unita loro Perché Io Comunque sono grata Dell'amborgino E credo Di essermelo meritata Per Tutto l'impegno Che ho messo In questi mesi E non soltanto Cioè io avrei potuto Mettere la tenda all'inizio Starmi nella mia settimana E poi sparire Invece no Ho continuato a impegnarmi Fino adesso E sto continuando Anche adesso Chiaro Chiaro Però Assolutamente Poi abbiamo dovuto Fare una contestazione Sullo striscione C'era proprio scritto Abbiamo chiesto una casa Ci avete dato un pezzo di carta Che è vero Ah sì Perché poi ricordiamo questo Qui si dice Vinci l'amborgino Ma non vinci niente in realtà Vinci un attestato Non vinci niente Deve essere dato almeno Tre mesi d'affitto Cioè non so come dire Almeno quello Spoiler Spoiler Tutti Tutti pensano Che io Abbia preso dei soldi Sia da tutte le interviste Che ho fatto Da maggio ad oggi Sia da l'amborgino Ecco Disclaimer Io non ho preso Neanche un centesimo Fino ad ora Ma no Ma non Cioè veramente La gente pensa Che Non ti puoi vincere E d'oro Non ho neanche La medaglia d'oro Gli han dato Quindi non può Vendersi neanche l'oro La medaglia d'oro Non puoi Non puoi rivenderti neanche L'amborgino d'oro Mi spiace Non penso abbia un valore Pari a zero Quella roba che ti hanno dato Valore economico E poi ripeto Io pagherei per vincerlo Quindi sono abbastanza Da milanese Sono un po' così Ilaria Il futuro Del movimento Dove tende in piazza Qual è secondo te? Cioè io vi auguro In realtà Di avere il futuro Brevissimo Perché vuol dire Che risolvete il problema Però Ho paura Che invece sarete Un'istituzione Fra un po' Purtroppo Non credo Che sarà così breve No niente Noi continuiamo a fare Le nostre assemblee Ogni due settimane Adesso ovviamente Sta arrivando Natale Quindi ci fermiamo Poi riprenderemo A gennaio Facciamo informazione Cerchiamo appunto Anche sui social Di condividere Tutto quello che facciamo Gli incontri Con le istituzioni Quello che le istituzioni Fanno e non fanno Abbiamo portato Un documento Con delle proposte In comune Proposte concrete Fattibili Che potrebbero Seguire Ma che non hanno Ancora seguito Quindi sicuramente Lotteremo Perché prendano In considerazione Questo documento Stiamo collaborando Anche con il Politecnico Sono in contatto Con molti professori Che si occupano Proprio del tema Dell'abitare Quindi ecco Cerchiamo di mantenere Il più possibile Aperta la rete Anche con le altre realtà Non solo dell'abitare Ma in generale La giustizia Per gli studenti A Milano E continueremo A farlo Ricordiamo che Ilaria Non è che poi È campata in aria Non so come dire Tu studi Comunque Tu studi Ingegneria ambientale Come si chiama Ingegneria ambientale Ingegneria ambientale Quindi diciamo Che anche il tema Della vivibilità Dei nostri ambienti E del fatto Che sia qualcosa Che una città Sia magari anche Socialmente giusta Rientra un po' Ormai Non dovete pensare Solo che lei Guarda gli alberelli E i prati Non è più così Nel senso È una visione Forse un po' vecchia Che abbiamo Di queste scienze Giusto? Sì Decisamente E penso sia tutto collegato Cioè L'abitare Deve essere un abitare Sostenibile Sostenibile Dal punto di vista Ambientale Ma anche sociale E tutto questo Rientra Ed è collegato Nella lotta Per l'abitare Che abbiamo Portato avanti Con il movimento Chiarissimo Perfetto Io direi che Possiamo ringraziare Ilaria A questo punto Assolutamente È stata perfetta Nella sua esposizione Grazie Ilaria E posso dire Grazie anche Per quello che hai fatto A nome di tanti Che sicuramente Magari non hanno avuto Quel coraggio Di far inizio Ma che adesso Magari appunto Seguono Il tuo esempio Grazie mille Ilaria Allora Grazie mille E ci Ci riaggiorniamo E facci sapere Come va avanti La protesta poi Certo Assolutamente Grazie mille a voi A presto Grazie mille Allora Ilaria La Mera Borgino d'Oro 2023 Tende in piazza Whitney Houston È mitica Whitney Assolutamente Fantastico Fantastico Un po' mi spiace Perché Grandissima Bravissima E tutto Famosa per i film De Bodyguard Cioè È diventata un po' troppo Famosa solo per quello Non so come dire Quando invece c'è tutto Un altro mondo dietro Che è molto più interessante No non credi Io non la conosco bene Ecco Quindi non ti so dire Va bene È sempre bello Parlare con te Tutorial per parlare con Masiri Prendete una pallina Di gomma Meglio Lanciatela contro un muro Di gomma anche quello E vedete come rimbalza Ti parlo di Che ne so Di robe che conosco solo io Guarda No io non la conosco Whitney Houston Mi spiace Mi spiace Il film Bodyguard Io non l'ho mai visto Ma quello poteva succederti Non poteva succedere In senso Un film reale Cioè nel senso Non parla di cose inventate No io ho presente solamente L'altro Bodyguard Mi pare dei Vanzina Ah no non l'ho visto Con Enzo Salvi Eccetera eccetera No non l'ho visto Giuro di non averlo visto E non credo ci sia Whitney Houston Sono contento di non avere Quando mi dici Racconto cose che sono solo io Ecco queste sono quelle Che sei solo tu Sono contento di non condividere Con te Ezio Greggio Andiamo avanti Dini altri Perché migliora la situazione Sicuramente Chiudiamola così Chiudiamola così Prima della nostra sigla Marco Mazzei Sì Ormai i 5 minuti finali Sono sempre di Marco Mazzei Pubblica su Facebook E penso anche sugli altri social Un screen con le date E gli orari Dei futuri consigli comunali Per il bilancio Ok Con scritto a te e a famiglia Facendo intendere che Passerà le feste Il 18-12 Il 19-12 Fino alle 22-30 E soprattutto Giovedì 21-12 Dalle 14-30 A oltranza Sarà in consiglio comunale Perché si cercherà Di approvare il bilancio E vabbè Buon lavoro A te e a famiglia Buon lavoro Proviamo a dire Non buone feste Buon lavoro A te e a famiglia Mazzei A te e a famiglia A te e a famiglia A te e a famiglia